Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video ASMR per voi oggi come potete vedere da qui ho comprato appunto la copertura per il microfono ed è la copertura pelusa vorreste un video in cui spazzolo la copertura pelosa tipo così? vi faccio solo un esempio tipo così? fatemi sapere se vi piace raggiungiamo per questo video 15.000 likes e fatemi capire se questi video vi piacciono oggi vado a fare un video mangereggio per voi ebbene si avete capito bene oggi andrò a mangiare per voi questo coso enorme mi copre la faccia questo e che cos'è questo? questo è l'honeycomb me l'avete richiesto veramente in tantissimi e oggi lo vado ad assaggiare per voi è la prima volta che mi capita una cosa del genere quindi sono emozionatissimo e andrò ad assaggiare anche questi un suono crunching per voi sono le gallette di riso eccole qua io direi di iniziare prima da questi volevo fare una combo ossia mettere un po' di miele su questi ma magari lo possiamo fare dopo intanto se questo video non ti piace perché farò dei suoni con la bocca puoi anche togliere il video non sono gradite le offese ma i commenti ti aiuto e ti consigli si, si, grazie grazie un po' di più Grazie a tutti 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 Dopo questo non bisogna mangiare dolce per almeno 30 anni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti